Amici della community di Diablo 4, oggi vorrei parlarvi di un qualcosa che mi avete detto sotto gli ultimi due video di Diablo dove si andavano a spiegare quali fossero i problemi che non tutti stanno riscontrando ma tanti invece, sì problemi abbastanza importanti, quale non riuscire a entrare in game, quale quasi non avere la licenza del gioco per poter entrare in vessel of hatred e addirittura non poter utilizzare lo spiritista e quindi avere anche problemi di prestazioni in game lasciamo stare, in questo momento lo stiamo anche vedendo, io lo vedo praticamente dagli fps o intorno agli 80-90 fps quando normalmente in una zona del genere dovrei restare intorno ai 144, però è una zona molto affollata ci sta che è piena di roba, ci sta che è molto grande e ci sta anche che è piena di dettagli perché è una nuova zona allora io andrò a prendere un pochino dei vostri commenti tra i quali andrò a prendere soprattutto quelli che hanno avuto dei problemi particolari e che hanno anche risolto il problema stesso, quindi spero con questo video di esservi utile per cercare di migliorare la vostra situazione in game generale e soprattutto di poter iniziare a giocare perché alcuni non riescono proprio a giocare a Diablo 4 vessel of hatred come vi dicevo nel video di ieri io non ho avuto particolari problemi, però tante altre persone a quanto pare sì quindi andiamole a vedere uno a uno prima di tutto quando entrerete e se riuscirete ad entrare appunto in vessel of hatred una delle cose che vi consiglio da pc di fare è quella di andare a cercare a livello grafico il raid racing perché personalmente mi aveva attivato il raid racing di conseguenza vedevo che aveva abbassato di botto tutto quello che era la mia diciamo quello smooth quindi quegli fps abbastanza fluidi che avevamo in questo momento ci aggiriamo intorno ai 80-90 addirittura ogni tanto tocchiamo i 100 fps in questo punto però se dovessi attivare le ombre raid racing e quant'altro scenderemmo addirittura intorno ai 70-60 quindi non trascurate questa cosa per gli amici del pc perché vi posso garantire che abbassa e abbatte notevolmente i vostri fps ora vi andrò a leggere una serie di commenti e vi dirò anche le soluzioni alle quali loro stessi sono riusciti ad arrivare in questo commento non abbiamo una vera e propria soluzione ma vi dico un attimino cosa è successo io ho un problema ricorrente su ps5 ogni tot di tempo mi blocca il dlc e mi dice che non possiedo vessel of hatred io non condivido l'aps non ho secondi account o altro ho tutto in regola è fastidioso perché a volte succede durante l'ultima parte di una missione lunga e mi tocca chiudere e riavviare non capisco cosa possa essere riscontrati parecchi giocatori del clan compreso me bug su avanzamento di livello del personaggio verso il passaggio di livello successivo occorre uscire disconnettere e rientrare occhio che lo fa spesso riscontrati bug con i mercenari assoldati e di rinforzo scompaiono e riappaiono occorre uscire disconnettersi e rientrare speriamo risolvano presto questi bug fastidiosi a me capita che si bugga l'exp oppure mi facevo uscire dal gioco e mi chiedeva di prendere l'espansione quando la possiedo già spero risolvano questo problema un problema che c'è su xbox è che mentre giochi capita che non ti legge più il dlc e bisogna riavviare help ma sono l'unico a cui da errore out of memory dopo pochi minuti di gioco ho anche provato a ridurre la qualità grafica ma nulla pensare che diablo 4 preespansione lo giocavo tutto in ultra si accettano consigli possibili soluzioni grazie ragazzi solo a me su console non fa attivare token del pass premium vedete ci sono una serie di problemi che in tanti stanno riscontrando e questo non va assolutamente bene per non parlare del fatto che se non erro c'è stato anche un review bombing a quanto pare per quanto riguarda l'orario perché non si è partiti all'orario in cui era stato detto insomma ci sono stati una serie di problemi adesso andiamo a quei commenti che loro stessi in qualche modo sono riusciti a trovare una soluzione con la speranza che possono aiutare anche voi peccato che per xbox non funziona ancora almeno a me proverò di nuovo cosa ti dice un ragazzo aggiungendo il gioco in qualche modo ha risolto ho trovato il problema sul sito di supporto per xbox in pratica avendo preso la deluxe la console aveva disattivato in automatico la versione base per cui non mi faceva accedere allo spiritista ho risolto smanettando nelle opzioni e spuntando anche la versione standard vedete in questo modo il ragazzo è riuscito a risolvere il problema spero che questa cosa possa funzionare anche con altri di voi qui un altro di quei problemi che purtroppo non c'è stata ancora una risoluzione probabilmente questa cosa la dovrà fare soltanto blizzard classe divertentissima ma il dlc ha un grave problema di audio almeno su console playstation dove glitcha in una maniera spaventosa poco dopo che giochi quando ti trovi in mezzo a troppi mostri ingiocabile se non quasi azzerando il volume degli effetti non proprio bellissimo così e c'è ragione giocare in questa condizione non è assolutamente divertente non riesco ad attivare la classe dello spiritista nonostante abbia sia il gioco che l'espansione ovviamente ho chiesto se fosse da console e lui ha risposto di sì stiamo facendo questo video proprio per cercare di dare risposte alle persone che hanno avuto gli stessi problemi quindi sperando che questi metodi funzionano per tutti ciao dal cane io questa mattina ho aperto il gioco prima di andare al lavoro giusto per dare un'occhiata e mi sono trovato lo spiritista bloccato nonostante ho preacquistato l'espansione è successo a qualcuno? devo ammettere che però ho dato solo uno sguardo perché non avevo tempo mi hanno detto di questo problema in live da xbox dovresti aggiungere il gioco in qualche modo ciao dalcan sì poi ho risolto in sostanza bisogna andare sull'icona del gioco del menu xbox start add on e spuntare vessel of hatred per attivarlo scrivo così se capita ad altri sapranno come risolvere io innanzitutto vi ringrazio tantissimo per avermi elencato questa serie di problemi perché vorrei appunto far notare alla community che esistono e che alcuni insomma hanno una soluzione quindi facciamo in questa maniera noi naturalmente cerchiamo di condividere questo video con tutti coloro che hanno bisogno potete metterlo su whatsapp sui discord dove preferite perché una soluzione di questo genere potrebbe dare una grossissima mano a tutti coloro che in questo momento non stanno riuscendo a giocare che stanno avendo problemi che non riescono a sfruttare lo spiritista ci sono una serie di cose che purtroppo non sono andate come dovevano e altre che invece forse fanno parte delle console stesso di playstation xbox che magari vanno in contrasto con il dlc per qualche strana ragione che non si comprende questo video ha lo scopo principale di cercare di appunto raccogliere questa informazione infatti se avete altre soluzioni se avete altre problematiche scrivete qua sotto nei commenti fatemi sapere quali sono le vostre problematiche e chi ha le risposte per favore che risponda agli stessi commenti perché così daremo una mano alla community per poter giocare a diablo in una maniera decente e soprattutto poter giocare in vessel of hatred per tutti coloro che non hanno preacquistato o che lo stanno acquistando in questo momento c'è addirittura che mi dice che non trova le kiss di gioco che non riesce a trovare da nessuna parte io ho consigliato di guardare su battle.net o sul gioco stesso o magari dallo store stesso di blizzard insomma dobbiamo cercare tutti insieme le soluzioni per darci una mano a vicenda ovviamente come sempre se questo video vi fosse stato utile lasciate un bel like e iscrivetevi al canale da questo pomeriggio ricominciamo appunto dal nostro livello 47 la nostra spiritista e continueremo ad andare avanti grazie a tutti voi come sempre per il vostro supporto da Alcane è tutto e ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo live ciao 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 ciao